Domenica 22 aprile il centro commerciale Il Giardino in collaborazione con la polisportiva MTB Avola organizza la prima edizione della gara di mountain bike cross country al Giardino. La competizione si svolgerà all'interno dell'area del centro commerciale su uno spettacolare circuito realizzato per assicurare il divertimento dei partecipanti e del pubblico presente. Iscriviti subito! Per tutti i partecipanti la possibilità di vincere uno scooter Honda Vision e un televisore LED 32 pollici. Per iscrizioni ed info visita il sito internet www.avolabike.net oppure chiama il numero 0931 833 120. Vieni a vivere con noi una domenica all'insegna dello sport e dello shopping. Centro commerciale Il Giardino, Iperspar e 35 negozi. Avola. Contrada Risicone. Circonvallazione Avola Noto.